Hola gamers e benvenuti in questo nuovo video, sono Andy Gamer Oggi principalmente una novità Il fatto è che ho disattivato, ho tolto lo sfondo Più che altro per apparire un po' più grande nel video L'immagine della webcam, per far sì che l'immagine della webcam sia più grande nel video Come avevo ciò che mi è stato detto in un commento Che avevo un video di un po' di tempo fa Oggi entriamo a provare un gioco che è stato descritto da alcuni Avevo letto alcuni commenti su GameJolt Come uno dei più spaventosi fan game di FNAF esistenti attualmente Quindi sarà veramente curiosa la situazione Anche perché leggendo queste cose non mi sono assolutamente rassicurato Già il menu di per sé non è rassicurante Vedremo, vedremo Specialmente per un mio amico Un mio amico mi ha suggerito di giocarci Quindi se stai guardando questo video E sai, penso tu sappia a chi io mi stia riferendo Cosa è successo? Non puoi Cosa? Oh, che vuoi? Cosa sta succedendo? Raga, non ho fatto niente È crashato il gioco Eh sì, stavo giocando a Flight Simulator prima Non ho fatto niente È appena iniziato il video Era apparsa la scritta You can't Non puoi Ma cosa non posso? Rieccoci E qua c'è la scritta hide Cioè nascondi Ma che cosa? Niente, apriamo Non apriamo il gioco Entriamo nel gioco Il lamento pure Mi ha fatto Non dico venire i brividi Ma quasi Andiamo Gioca con noi Play with us Shift 1 Keeping your monitor down Will renew the switch time Chi è che chiama? Honeysoft Home security Oh Gesù No Bruttissimo Good evening As I'm sure you're aware I wanted to call you tonight To help you settle in I'm not gonna waste your time So let's cut straight to it There should be a monitoring system In your workspace Open it please Now, be warned That old rickety system Is a bit finicky To say the least You can't switch the cameras yourself But you can't mess with the speed At which they No, ho premuto lo spazio per sbaglio Outdoor order Questa non si può usare No Come si dice No Qua c'è la La luce Ah ecco Rifans Rimborsi Questa è la cucina Tipo Parco gioco Cioè sì I giochi Per i bambini La torcia Che Non so se neanche Non penso ci sia Effettivamente Storage Ah ti fa vedere dove Sta le telecamere Mi sembra Eeeh Poi adesso mi sembra Ci sia nessuno Eh lui Ehi Bonnie No Torna Torna sul palco Bonnie Poi non so nemmeno Cosa bisogna fare Nel gioco Ah qua Devi abbassare Appena Arriva un tizio Devi abbassare Però quanto odio Il fatto che non puoi switchare Le telecamere tu Questo è veramente scomodo Samue mannaggia A te Subito Cosa sta succedendo Fammi iniziare la notte Ti prego Sei morto Ma grazie Non mai ne l'ho reso conto Bonnie può entrare Da dietro O da destra Usa l'allarme per distrarlo Se è in una posizione strana Riproviamo Mo sentiamoci la telefonata Che brutta posizione Che sono entrando Buongiorno Come sono sicuro Stavo chiesto Voglio ringrazi Tornare Per aiutare Non mi spazio Non mi spazio Il tempo Perciò Scusate Ci potrebbe essere Un sistema di monitorazione Nel tuo spazio Aprile Scusate Non mi spazio Non mi spazio A posto Grazie Che bello Fantastico Ehi Oh Ah Ok ho capito Capito più o meno Come funziona Il router dovrebbe essere Questo Qua c'è l'idro Le luci Ehi Si erano abbassate Le luci Per un attimo Madonna mia Paura Ehi Ehi Luci No Morirò sicuro Di nuovo Anche questa notte Cioè non questa notte La stessa Dov'è Dov'è Voglio sapere Non avrei dovuto farlo Mi sa Non avrei dovuto farlo Ah no Ora è qua Però non riesco a capire Cosa intenda Con Posizione strana Odd position Che Cosa vuol dire Posizione strana Sto avendo paura Sto avendo paura Non riesco a capire Cosa io debba fare Qua magari qualcuno Mi appare davanti Ah Ho capito Ho una telecamera Anche nell'ufficio Mi fa vedere Se c'è qualcuno Dietro di me Magari Si E per forza C'è una miseria Ma perché ho deciso di giocarci No grazie Ho già capito come funziona Oddio Oddio Allora Bonnie È qui Non mi sembra aver sentito Camminare Però Non ne sono sicuro Ehi Giusto è qua eh No 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 Dai Dai No No Dove è finito Qua la porta è aperta Era aperta anche prima L'ho distratto Quindi C'è stato distratti Distrailo No Chiudi Chiudi È andato a destra Mi sa Ehi Mannaggia la miseria No No Ma me lo prendo sicuro No No La connessione No 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 Ho spento il router Ehi Che bello che sei Come si fa a capire Se è dietro Cioè Si apre la porta Qua Storage Non riuscirò mai a finirlo Bonnie adora viaggiare Adora viaggiare fino alla tua finestra Chiudi la serranda per tenerlo fuori Tuttavia non lasciarla chiusa una volta che se ne va E ok Va bene Si ho capito Si ho capito è difficile ragazzi Il gioco è veramente difficile No grazie Non ti voglio sentire Fongai delle mie balle Tu sei qua Tu mi manderai Mi manderai fuori di testa Party tables Parti tables Trattino basso Sarà il nome del mio nuovo canale youtube No non è vero Non aprirò un nuovo canale youtube Per adesso Però mettetelo un vetro Come diceva il fungai Lì Non sono affari tuoi Eh però ho capito Però la sicurezza Dovrebbe essere un affar mio No Mo Prendo il jam Che sicuro me lo sento Dov'è Dove sei No perché è vero Non arriva sempre da davanti Arriva da destra Da dietro Però ho capito Adoro i giochi fatti così Però Troppo spaventoso E' bellissimo E' una demo Però Già la miseria E' veramente difficile Fidatevi Se Ne avete la possibilità Provatelo Provatelo voi Con le vostre mani Vedrete che non vi sto mentendo E' veramente Probabilmente il fungame di FNAF E' più difficile Che Al quale io abbia mai giocato Il fatto è che io non lo sento mica camminare Cioè se io lo sentissi camminare Signor Perché si abbassano le luci No no è la fine per me E' la fine per me E' la fine per me E' la fine per me Lo sento Ho sentito dei passi stavolta E' la fine per me Addio ragazzi Vi ho voluto molto bene Addio ragazzi Sto dicendo queste cose per non avere paura Sento qualcosa muoversi Non mi fido Non mi fido Addio 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 Ma se io lo tenessi tipo Mezza chiù Non si può Mannaggia Ci avrei sperato Chiudi quella cavolo di Eh ragazzi sono le due di mattina Non ce la farò mai Ne sono sì E mannaggia la miseria Sto cavolo di monitor Ti distraggo Spesso che se ne sta andando il segnale No 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 Mettete la fibra però Non Non lo so Cosa sta succedendo Si sta riavviando tutto Madonna che computer che abbiamo Un bel computer da gaming Dai giochiamo a minecraft Distrailo No la connessione No la connessione Oggi Fastweb non va La mia posizione in questo momento Ho praticamente un Ce la stavo quasi facendo Ragazzi Ci ho provato Spero di un altro video Di continuare Provarci Però io adesso Non me la sento molto di continuare Perché Sono 21 minuti Che sto provando Ci Intanto ritorniamo al menu Di questo maledetto gioco Fa una paura matta Questo gioco E se volete sapere il nome Ve lo metterò anche nel titolo Graveyard Shift at Freddy's Se avete un computer Vi prego Provatelo Se volete ovviamente E Noi ci vediamo In un prossimo video Ciao raga